Conoscere la storia, tuffarsi nei vicoli in cui palpita ancora la vita, valorizzare l'agricoltura e gli antichi sapori, ecco l'estate nelle aree interne in Irpinia, qui siamo a Dariano, nel Museo dell'Arte Ceramica e delle Antiche Tradizioni. Ci vuole un po' di collaborazione da parte anche della cittadinanza, in quanto si devono fare tante cose, ci vuole un po' di aiuto. Non dico materiale che, quanto meno morale e di collaborazione. Vicole Arte dovrebbe in qualche maniera portare tanta, tanta cultura, questo è l'obiettivo di Vicole Arte, cultura e arte. Abbiamo calato Vicole d'Arte proprio nei rioni storici dell'Annunziata e della Strada, tirando fuori non solo quelli che sono i resti della cinta muraria arianese, ma aprendo anche una ex chiesa, quella del Purgatorio, che a sua volta è la chiesa di San Silvestro, già presente nel 1241, abbiamo aperto un antico palazzo nobiliare, dove all'interno c'è un forno cinquecentesco e anche un torchio cinquecentesco, appunto per la produzione del vino. È stato voluto tutto fortemente da Carmine, veramente fortemente, con tanti tanti problemi, però ci siamo riusciti.